Musica Ad è stato scalpore in città la notizia del sequestro all'ingegnere aquilano Mario Corridore, dipendente del comune dell'Aquila, che nelle vesti di amministratore di condominio avrebbe, secondo l'accusa, pilotato l'assegnazione di lavori edili per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro ad un'impresa di treviso dell'imprenditore Aldotasca, assegnando alla figlia Ilaria il ruolo di progettista e direttore dei lavori. L'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila segue le altre e scatta a sette anni esatti dal terremoto. Figura centrale, secondo l'accusa, l'ingegner Corridore, responsabile dell'ufficio sviluppo aeroportuale del comune. L'operazione, condotta sul campo dalla Guardia di Finanza dell'Aquila, ha portato ad una confisca di un valore di 264 mila euro. Gli indagati sono tre, oltre a Corridore, anche la figlia e il rappresentante legale dell'impresa, l'imprenditore Aldotasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'inchiesta sarebbe nata sulla scorta di un'indagine precedente, che vede lo stesso Corridore indagato, con altre quattro persone, per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologiche in atto pubblico. La finanza si sarebbe mossa attraverso lo strumento delle intercettazioni per approfondire la vicenda e formulare le nuove accuse, che ovviamente andranno tutte verificate. Le ipotesi di reato, comunque, sono truffa ai danni dello Stato e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Come spiega una nota delle fiamme gialle, è chiaramente emerso come il pubblico funzionario, in totale spregio dei propri obblighi e doveri al solo fine di perseguire interessi personali e familiari, abbia posto in essere una serie di lecidi comportamenti che gli hanno consentito di ottenere in debiti vantaggi patrimoniali. Vantaggi quantificati in 214 mila euro circa, corrispondenti ai compensi professionali percepiti dalla figlia, e in circa 50 mila euro corrispondenti ad un forte sconto extra contratto, concesso alla ditta secondo l'accusa giudicataria dei lavori, quale contropartita per l'assegnazione dell'appalto, in ordine all'identificazione di alcuni billetti a schiera, nella frazione aquilana di Pianola, di proprietà di una società immobiliare riconducibile alla figlia del pubblico dipendente. Recuperati dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, circa 16 milioni di euro sottratti al fisco da una società operante nel settore della costruzione e assemblaggio di componenti elettronici e con sedia amministrativa dichiarata nella città di Sulmona. Le fiamme gialle, a seguito di un'articolata e complessa verifica fiscale, hanno constatato che la società, che non aveva presentato le dichiarazioni sia dei redditi che dell'IVA per gli anni di imposta dal 2009 al 2012, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali concessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo profitti per circa 16 milioni di euro, completamente non dichiarati ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanziari sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguite sul territorio provinciale, regionale e nazionale, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per oltre 15 milioni di euro. I due amministratori della società sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale tributaria. La Procura della Repubblica di Sulmona, condividendo le ipotesi investigative delle fiamme gialle di Sulmona, ha richiesto al GIP del locale tribunale la misura cautelare reale sia per gli immobili di proprietà degli amministratori ubicati nella provincia dell'Aquila, nonché sulle disponibilità rinvenute nei conti correnti bancari e postali. In esecuzione del decreto di sequestro preventivo per oltre 7,5 milioni di euro emesso dal GIP del Tribunale di Sulmona e il dottor Marco Billi, su richiesta della dottoressa Aura Scarcella, sostituto procuratore della Procura di Sulmona, i finanziari della compagnia hanno quindi sottoposto a sequestro unità immobiliari, sita nel comune di Pratola Peligna, oltre a conti correnti bancari, libretti di deposito postali, carte post-pay, monili in oro e preziosi al fine di recuperare l'imposta evasa e non versata al fisco. Ammonta ad oltre 3 miliardi la somma stanziata fino ad oggi per la rinascita dei centri storici nel cosiddetto cratere sismico, dove sono stati approvati ben 47 piani di ricostruzione sui 55 previsti. È il quadro che emerge dai dati forniti dal responsabile dell'Ufficio per la ricostruzione del cratere Paolo Esposito, che ha parlato di 107 progetti approvati per il repristino di opere pubbliche, mentre fuori cratere sono 637 i cantieri già attivi per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009. Sulla ricostruzione privata siamo 1,4 miliardo di impegnato dal 2009 a oggi, intendo cratere e fuori cratere, e stimiamo di arrivare a una quota di circa 4 miliardi, quindi siamo a un 30% del percorso finanziario. Per quello che riguarda le case, su circa 26-27 mila abitazioni inagibili tra cratere e fuori cratere, siamo oltre 5 mila, quindi a un 20% sul dato abitazioni. Dati e numeri che saranno disponibili nel nuovo sito dell'USRC, che verrà inaugurato entro il prossimo mese di giugno, e che, oltre a contenere informazioni relative a cantieri ed opere, strizzerà l'occhio ai nuovi social media, sempre più spesso utilizzati per reperire informazioni. È la frontiera di comunicazione oggi più invasiva, Twitter, LinkedIn, sbarcheremo anche su altri, ovviamente con le dovute cautele, perché sono strumenti che vanno maneggiati quando si danno informazioni così delicate con una certa attenzione. All'Aquila si viene alla luce con note in sottofondo di Beethoven e Mozart, talora con un waltzer e più frequente con Vasco Rossi ed Elisa, tra luci soffuse ed una manciata di stelle appesa ad un fazzoretto di cielo, e, se si vuole, nel lieve sciabordio di una vasca dove il neonato comincia l'avventura e si tuffa nella nuova vita. Nel capoluogo, spiegano dalla ASL, dopo il trasferimento del dicembre 2015 del reparto di ostetricia nella nuova casa, completamente ristrutturata al primo piano del detta chirurgico dell'ospedale, gestanti e bebè, non solo per il parto in acqua, sono immersi in un'atmosfera unica che rilassa le partorienti durante il travaglio fino ad allentarne il più possibile il fisiologico dolore. Con la rioccupazione degli spazi originari dopo il sisma, nel giro di pochi mesi il reparto è diventato un ambiente davvero speciale, spiegano all'insegna del massimo rilassamento della donna e della piena fruizione delle sensazioni che accompagnano un evento così importante, con 355 parti da gennaio a oggi, nella quasi totalità portata a compimento in questo magico set, dove l'emozione dell'evento, a cui partecipano appieno ostetriche e altri operatori, è dilatata al meglio dalle atmosfere, arredi e colori, prestoché esclusivi, a partire dal lettino per il parto in acqua, dotato di una fantasia luminosa che riproduce il cielo stellato. Il 98% delle gestanti, spiega ancora la ASL, dall'inizio dell'anno a oggi non si è fatta sfuggire questa opportunità, chiedendo di mettere al mondo il figlio in questo contesto di deliziose sensazioni. Su corpo e mente ha importanza la colonna sonora, diffusa in sottofondo in sala parto, rimessa all'insendagabile scelta della futura mamma. L'archivio di Ostetricia contiene circa 200 motivi musicali, tra musica leggera e classica, che divendono i giusti titoli di coda di un film che dura nove mesi, e per il quale tutti i gestanti auspicano un finale indimenticabile, con lacrime di gioia condivise magari con marito o il compagno. I parti in acqua, che l'Aquila ha introdotto per prima in regione poco meno di due anni fa, restano un'opzione aggiuntiva e di nicchia, scelta in media da cinque donne al mese. Grazie a tutti. Si vuole quello che io non ho... Grazie a tutti.